Siamo tutti i due famigli attivi, partiamo tranquilli, poi acceleriamo, poi rilettiamo, un po' di sui, dropperanno un po' di tutto, ma adesso ci sono i creepers, la loro portano pizza e voi dovete ballare tutti quanti. Si parte! Siamo tutti i due famigli attivi, partiamoci, partiamoci, partiamoci. Alla prossima! 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 Alla prossima!